Avere una pistola senza il porto d'armi è dunque un reato, in realtà lo è sia nel caso in cui la pistola venga custodita in casa senza l'apposita licenza, sia, e a maggior ragione, nell'ipotesi in cui questa venga portata in giro. La norma che punisce questo comportamento è l'articolo 699 del codice penale e lo fa in modo molto severo, cioè con l'arresto fino a 18 mesi. E se si tratta di una pistola giocattolo? La pistola giocattolo deve essere riconoscibile come tale da chiunque, altrimenti pensate tutti quanti avremmo un infarto. Diversamente, se anche non costituisce un pericolo per l'incolunità delle persone, potrebbe generare infatti un timore incontrollato con conseguente lesione dell'ordine pubblico. Pertanto la pistola giocattolo deve avere il famoso tappo rosso che vale a contraddistinguerla da un'arma vera e propria.